È stato divulgato da poco il piano sanitario regionale, riordino per meglio dire della rete sanitaria regionale. Sindacati muovono delle critiche, cosa non vi convince, cosa non vi piace di questo piano? Un piano che è scritto sulla carta, però in realtà noi oggi abbiamo tanti ospedali che sono stati in questi anni svuotati dai servizi, dei reparti su questi ospedali non si è investito, non si sono comprate le attrezzature necessarie, attrezzature all'avanguardia. Allora noi diciamo due cose, innanzitutto che nel disegno della rete ospedaliera oggi questa rete va collegata necessariamente alla rete territoriale, perché è una rete territoriale che funziona, decongestiona gli ospedali. Nel PNRR ci sono molte risorse, sia per la innovazione negli ospedali che per la creazione, ad esempio, delle case di comunità. Per il potenziamento delle cure domiciliari. Allora, sia il piano della rete ospedaliera che quello della rete territoriale devono prevedere anche gli investimenti in attrezzature e in personale, perché effettivamente dobbiamo avere degli ospedali che vengono rilanciati nella loro funzione. E' una sanità territoriale che va implementata perché oggi è fortemente carente. Quindi qual è il punto? Quanti investimenti si hanno fatto? Quante migliaia di operatori sanitari verranno assunti nella regione per far funzionare gli ospedali, le reti territoriali, le reti domiciliari che dovranno essere implementate? Abbiamo una straordinaria occasione, che è appunto quella di utilizzare i soldi del PNRR, ripeto, per l'innovazione e per la digitalizzazione degli ospedali, ma anche delle reti territoriali. una rete ospedaliera che deve collegarsi con la rete territoriale. Noi oggi non sappiamo in Abruzzo quante case della comunità faremo, dove le faremo, quali saranno le funzioni. E quindi sul tema degli ospedali, insomma, il rischio è che questi ospedali continuino ad essere depotenziati e non si investa sulle strutture ospedaliere. Stiamo anche rinunciando a ridisegnare una sanità di maggiore qualità in Abruzzo. Con questa rete ospedaliera si decide di non procedere con l'idea di secondo livello che prevedono tutte le altre specialità in un unico presidio fisico. E questo significa perdere un'opportunità. Non dimentichiamoci che l'Abruzzo è una delle regioni con i più alti dati di mobilità sanitaria passiva. Quindi questo significa che le persone, gli abruzzesi, vanno a curarsi fuori regione, perché non ritengono le nostre strutture idonee, altrimenti non avrebbe senso. Quindi era necessario non fare una rete ospedaliera che mantenesse sostanzialmente quello che c'è oggi, ma una rete ospedaliera che puntasse all'eccellenza e alla riqualificazione. Questo noi non lo vediamo nella rete ospedaliera. Liste di attesa sono enormi, minano il diritto alla cura e probabilmente resteranno. Se non si assume personale è idoneo e se non si dà una svolta su questo tipo, potenziamento della rete territoriale, sfruttare e migliorare e qualificare veramente i nostri ospedali e non perdere invece questa opportunità. Arriveranno tanti soldi dal PNRR. Il Presidente Marsilio ha detto che questi soldi non basteranno, certo, ma sono delle risorse importanti. La Regione dovrà investire molto sul personale, ma di questo non vediamo traccia negli strumenti di programmazione della Regione Abruzzo.